Ritrovati dallo stadio di Montarotondo, la Serie A2 maschile, la Roma-Visnova affronta il Latina in questa prima giornata del 2023. Si va e prima contesa la vince la Roma-Visnova che fa suo il primo pallone. Con la gallottina numero 7, Michele De Robertis, tiro e gol, primo gol, Michele De Robertis, superiorità che viene vanificata, Ciotti poi intercettato, ancora Ciotti, 7 secondi, De Robertis solo, il tiro, ancora Roma, Leonardo, Checchini, controfuga, Robertis ci prova, va la travesse e poi la palla entra, ancora lui, Michele De Robertis. La palla arriva a De Robertis, avanza Michele, va Michele tutto solo, De Robertis, show personale di Michele De Robertis, sono quattro. Avanza Marco dalla palla a Narciso, Andrea Narciso, gol numero 5, Roma-Visnova, rigore, tiro e la parata del portiere. La palla arriva a De Robertis, si fa vedere solo, è invece un monologo, ancora lui, Michele De Robertis, ne piazza quattro. Tiro da lunga distanza e arriva il gol da parte di Luci, De Robertis, Provenziani, si apre lo spiraglio e la piazza lì, Luca, Provenziani, settimo gol. Sui 5 metri, rigore, il tiro di De Bonis, la palla schizza via, prende il palo, 5 e 11. Il tiro, il gol, Roma-Visnova, dai 5 metri, lo trasforma Simone, Arusso. Avanza Simone, va Russo e poi il top-in da parte della coltina numero 10, Andrea Narciso. Rimane solo Tarquini e il gol, arriva il gol della coltina numero 5, Tarquini, che è solo, può avanzare, ci mette il tiro invece, Simone Russo, secondo gol. Ciotti, poi arriva Marco Ferrande, arriva Ferrande, la palla arriva al centro e il gol ancora, Roma-Visnova con la coltina numero 10, Andrea Narciso. Baraldi, tiro il gol, tiro il gol di Baraldi, terzo gol Latina. Il gol da parte di Lucci. Le squadre sono allungate tantissimo, adesso la palla è per Giuliano, tutto solo, arriva il gol. Anza ancora, Roma-Visnova, la palla arriva al centro per Di Rocco che l'agguanta e qualche problema è la Beduina! Luca Di Rocco! Tutto solo il tapin! Corra di Di Rocco in un minuto, ne fa due. La palla non arriva a Baraldi, viene trattenuto, si va allora in superiorità al gol. Gol è numero 12 ed è Alessandro Melle che va a segno. Il 7 gol in un tempo, ne ha fatti 36 negli altri 3. Arriva anche il gol di Tarquini, coscia le distanze Latina con De Vecchis. De Vecchis e anche lui va a segno, viene scritto nel taccuino dei marcatori. Il tiro è il gol di Giuliano, ottavo gol Latina. Offre poi un pallone a Di Rocco, poi Ferrante tutto solo, Marco Ferrante! Gol numero 15, Roma-Visnova. Ancora Giuliano, Baraldi, il tiro di Baraldi, il gol. 9 a 15. A secco in questa partita, Checchini! Leo! Checchini! Secondo gol personale! Finisce il tempo però è stato fallo su Checchini. Allora Roma-Visnova che rimane in avanti. L'ultimo 19 secondi, 54. Leo, Leo, Leo! Tre volte, Leo Checchini! Squilla tre volte, 24 punti, 8 vittorie su 8, imbattibilità nel corso tutto il 2022. Finisce così il match.